Ciao a tutti, vi faccio una piccola presentazione di me. Mi chiamo Mari. Ho deciso di aprire questo canale che si chiama Grafiche e Arte per condividere con voi quello che è il mio lavoro di grafica. Aiutarvi, darvi suggerimenti e consigli. Questo primo tutorial è dedicato proprio alla giornata di San Valentino per chi vuole un'idea carina ma non sa come crearla. Non c'è bisogno di avere programmi di grafica installati sul computer. Vi spiegherò come personalizzare una lettera a vostro piacimento. Sulla mia pagina di Facebook potete trovare qualche immagine da scaricare ma va bene anche qualsiasi altra vostra idea. Iniziamo con il tutorial. Cerchiamo www.fotoflexer.com. Clicchiamo e ci troviamo questa schermata. Questo è il sito con cui noi lavoreremo. Andiamo in basso a destra su questa voce, clicchiamo e aspettiamo che si carica e ci troveremo questa schermata. Qui dobbiamo sceglierci quello che dobbiamo caricarci, quindi una foto che vogliamo modificare oppure in questo caso una lettera a cui vogliamo scrivere. Cerchiamo e carichiamo un'immagine. Aspettiamo che si carica. Ecco e ci troveremo la nostra immagine caricata. Se noi clicchiamo su fullscreen ci possiamo vedere il nostro file e la dimensione schermo. Però in questo caso a me non interessa. Qui si può sempre ingrandire, si può rimpicciolire. Quindi torniamo a Exit. La voce che noi vedremo oggi sarà questa, Decorate. Clicchiamo qui e qui avremo una serie di opzioni. Quelle che vi farò vedere io sono due, perché in questo caso noi vogliamo scrivere su questa lettera senza scriverla a mano se vogliamo fare una cosa più personale. Qui ci prendiamo la T di testo e scriviamo quello che ci interessa. Clicchiamo ciao amore. Prendiamo la finestra e la spostiamo qui. Andiamo in questa palette che si è aperta. Clicchiamo sulla voce transparent. Così che il bianco non ci va a coprire sotto. In questo momento noi possiamo rimpicciolircela, ingrandircela. Possiamo decidere quello che ci interessa. Qui possiamo scegliere il carattere. Lo carichiamo un carattere più calligrafico. E lo mettiamo qui. Lo ingrandiamo un altro po'. Mettiamo questo. Per continuare al seguito, riclicchiamo di nuovo sulla T e scriviamo il resto. Ti penso. Lo prendiamo e lo trasciniamo sempre qui. Clicchiamo sempre sulla voce transparent. Le cambiamo la voce. E lo poggiamo qui. Una cosa molto importante per queste. Noi adesso stiamo facendo una lettera che poi dopo stamperemo. Quindi quello che vi voglio dire è di non mettere questa voce. La voce glitter su una stampa non uscirà. Quest'altra voce che vi farò vedere sono stickers. Sono delle piccole clip art che possiamo decidere di inserire. Per esempio in questo caso il cuore. Lo clicchiamo. Aggiungi stickers. Lo posizioniamo qui. E vogliamo aggiungercelo qui. Se vogliamo scriverci la nostra firma, clicchiamo sulla matita. Ci facciamo la punta un po' più sottile. Qui scegliamo il colore. E possiamo scrivere così. A penna. A matita. solo che è una cosa un po' più scomoda. Una volta finito il nostro lavoro andiamo su salva. Qui scegliamo il tipo di formato che vogliamo salvare. Noi in questo caso vogliamo stamparla. Quindi clicchiamo su una jpeg. Salva. Aspettiamo un po' fin quando ci chiede il nome che vogliamo nominare al file. Noi scriviamo Amore San Valentino. Facciamo salva. E qui ci chiederà dove vogliamo salvarlo. Una volta pensato a dove salvarlo facciamo registra. e con questo il tutorial è finito. Spero di avervi fatto vedere una cosa semplicissima ma molto carina per San Valentino. Per chi vuole fare una cosa speciale, originale e che vuole cercare di essere un piccolo grafico. Grazie. Alla prossima. Grazie.